Un habitat cittadino in cui si svolgono le mille attività quotidiane, frenetiche e caotiche. Uomini e donne in corsa nel traffico, in attesa dell'autobus o del tram. Momenti di vita in un ambiente di cemento e asfalto in cui distrattamente ci aggiriamo tentando di dimenticare i problemi, tra cui quello dei nostri rifiuti, di cui velocemente cerchiamo di sbarazzarci. Un mondo di umani, non troppo umano. Tocchi. Un mondo di umani, non troppo umano. Un mondo di topi, o meglio, di ratti. Il ratto delle chiaviche, detto anche surmolotto, è un roditore di circa 25 centimetri di lunghezza, che può raggiungere fino a 500 grammi di peso. Di colore grigio marrone, talvolta nero. La coda è lunga quanto il corpo, ed è di colore chiaro, con peli radi. Probabilmente il ratto ha un'origine asiatica e già nel Medioevo si aggirava nelle nostre città, arrivato come clandestino, a bordo di imbarcazioni mercantili che facevano la spola lungo le coste del Mediterraneo. E già a quei tempi si rifugiava nei sistemi cognari, che eleggeva a sua ideale dimora. Il nostro coinquilino ha infatti una predilezione particolare per le acque, meglio se inquinate e ricche di sostanze organiche. Il ratto delle chiaviche è infatti un abile nuotatore. Riesce a percorrere in acqua fino a 800 metri consecutivi, nuotare nelle fogne controcorrente e immergersi senza troppa fatica per brevi tratti. A volte, dopo una bella nuotata, ama lisciarsi il pelo e fare un po' di toilette lungo la riva, a dispetto di chi lo crede lurido e immondo. I rapporti sociali tra ratti sono improntati su una pacifica convivenza e sulla politica delle pari opportunità tra i sessi. I maschi e le femmine hanno infatti la stessa libertà di accesso al cibo disponibile, senza gerarchie di sorte. I ratti delle chiaviche sono territoriali, ma al contrario di quanto si favoleggia sulla loro presunta aggressività, sono particolarmente rari i casi di veri e propri combattimenti tra maschi o tra intrusi e membri di altre colonie. All'interno del proprio nucleo, gli individui si riconoscono a vista e attraverso l'olfatto e difendono un piccolo territorio nell'interno della propria tana o poco più. Sulla base delle disponibilità di cibo, un maschio adulto occupa con il suo gruppo un territorio che va dai 100 metri di raggio fino a circa 3 chilometri. La sua ampia adattabilità e capacità di vivere a stretto contatto con l'uomo ha fatto sì che la specie si diffondesse su tutti i continenti. Ma il rapporto con gli umani è andato ancora più avanti, tanto che i ratti dipendono strettamente da noi per il cibo e le tane. Spesso anche nelle discariche possono essere presenti delle colonie che utilizzano i nostri scarti alimentari in compagnia di altri commensali quali volpi, cani randagi, gabbiani comuni e gabbiani reali. Sembrano perfettamente a loro agio anche in queste situazioni limite, dalle quali invece, grazie alla loro estrema adattabilità, riescono a trarre notevoli vantaggi. Il ratto delle chiaviche è infatti una specie particolarmente eclettica quanto a comportamento e a schemi sociali e la sua innata curiosità lo spinge a visitare qualsiasi ambiente e ad adattarsi a qualsiasi situazione, anche difficile. È in grado, anche se con qualche difficoltà, di arrampicarsi all'interno di qualsiasi condotto e di spostarsi su tubi o fili sospesi. La sua dieta è tipicamente onnivora con una preferenza per la componente animale. Rosicchiano comunque un po' di tutto, anche i cavi telefonici, quelli elettrici e i tubi di plastica. I giovani ratti imparano dalla madre cosa mangiare e cosa evitare e sembra che la genitrice, attraverso il latte, possa influenzarli insegnando loro a mangiare le stesse cose di cui lei si è alimentata. Un maschio adulto si può muovere ad una velocità che varia da 0,5 a 1,5 km l'ora e si allontana dalla sua tana per cercare il cibo per un massimo di circa 3 km. Le sue proverbiali capacità riproduttive fanno sì che da una sola coppia di ratti si possano avere in un anno fino a 15.000 discendenti. Infatti la gestazione dura 21-22 giorni e i piccoli, da 6 ad 8, con punte di 12, diventano sessualmente maturi a 3 mesi. Ogni anno una femmina può avere da 3 a 6 gravidanze. Generalmente la vita media è poco più di un anno anche se sono stati registrati, soprattutto in cattività, casi di individui di 7 anni di età. Eppure questo sgradito e odiato coinquilino, che spesso frequenta per motivi disparati ambienti e luoghi a noi vicini, dai prati ai viali, ai parchi gioco per bambini, non ha tutte le colpe che amiamo imputarli. È più che altro un comodo capro espiatorio, bersaglio di faraonici, quanto inutili, vista la biologia della specie, programmi di derattizzazione che non vanno a incidere sui problemi strutturali delle fognature e su quello dei rifiuti. Spesso viene in questo modo utilizzato per distogliere l'attenzione dai veri problemi di degrado ambientale delle città, problemi che hanno contribuito a causare l'esplosione demografica dei roditori e che hanno fatto sì che in alcune città ci vedessimo assegnati dalle statistiche dai 4 ai 10 ratti a testa. Risolvere i problemi, quelli veri, è una sfida costruttiva per il futuro che ci porterebbe a vivere in città più umane e a vedere assegnato ai ratti un ruolo meno invadente di quello attuale. Per ora lui è tra noi, annusa l'aria e forse anche lui spera in tempi migliori. L'inizio dell'Ottocento vide lo sviluppo della città industriale. La popolazione crebbe a dismisura. La sovrappopolazione creò molti problemi. Liquami e scarichi nelle strade, malattie e illegalità. Era molto differente dalla forma ideale di città che si supponeva fosse la sede della civiltà al sicuro dagli eccessi della natura. Come molte città europee, Parigi è considerata centro di cultura e civiltà. Ma non è sempre stato così. A metà dell'Ottocento era un focolaio del caos. C'erano continue ribellioni, compresa la più sanguinosa guerra civile europea, quella del 1848. Una mortale epidemia di colera uccise più di 90.000 persone. Il barone George Hausman venne incaricato da Napoleone III di mettere ordine nella città. Hausman allargò i boulevard, portò l'acqua potabile dalle campagne e spostò le casucole in periferia. Gli scarichi furono il suo problema più pressante. A metà dell'Ottocento la gente pensava che le malattie fossero causate dai miasmi, la fetida aria emanata dalla materia in decomposizione. Le vecchie fognature di Parigi, piccole e rudimentali, erano considerate il terreno di coltura delle temibili epidemie. Hausman aveva ereditato 26 chilometri di condutture stagnanti, sconnesse, alcune risalenti al periodo medievale. Disegnò un piano generale per costruire 776 chilometri di tunnel comunicanti. Quando vennero terminati, in pratica era una città sotterranea. Le fognature confluivano in tre cloache principali che portavano gli scarichi nella periferia della città. Il sistema divenne una metafora di ordine e disciplina. Le dimensioni delle nuove fognature erano una radicale innovazione. non erano condutture, ma tunnel, ognuno largo abbastanza da permettere l'ispezione di un uomo. Il nuovo sistema si avvantaggiò della pendenza della città lungo la direttrice sud-est-nord-ovest. La forza di gravità poteva giocare il suo ruolo. Ma la gravità da sola non bastava a sospingere una certa quantità di materiale inorganico che prendeva la via delle fognature. Questo è un bateau van, una barca di sei metri per due. Sollevando o abbassando la sua saracinesca, come fosse una chiusa, gli addetti alle fognature creano una violenta corrente che spazza via il materiale incoerente. Quando una parte della fognatura viene liberata, la pressione dell'acqua trasporta la barca nella successiva zona di operazione. La stessa tecnologia è usata da oltre 150 anni. Le nuove fognature vennero acclamate come un trionfo tecnologico. Il colera era stato sconfitto e le strade adesso erano pulite e sicure. Questa idea di tecnologia faceva presa sull'immaginario popolare. Questo futuristico film realizzato dall'Associazione per lo Sviluppo Elettrico nel 1934 pubblicizzava il risparmio di fatica consentito dall'elettricità. Ma il film veicolava un altro messaggio palesato nel disegno dei vestiti e della cucina, anche dei dintorni. E cioè che l'elettricità prometteva un mondo pulito, candido e brillante. Era un tema che venne riproposto fino agli anni Sessanta. Questo film industriale pubblicizzava l'energia nucleare come futura risorsa elettrica. Suggeriva che l'elettricità aveva rispettato la sua promessa di pulizia, purezza e comfort. Questi film promozionali vennero realizzati quando l'elettricità era già ben affermata come una tecnologia in odore e in sapore che scorreva impercettibilmente nelle case. Negli anni Cinquanta in America le città avevano problemi di sovrappopolazione e di edifici fatiscenti. Gli anni del dopoguerra videro lo sviluppo di una soluzione tecnologica, l'area suburbana. Ma i soborghi non erano solo una fuga fisica dalla città e dal mondo del lavoro. Rinforzarono l'idea della casa come luogo di tranquillità. Nel frattempo gli urbanisti e gli architetti volevano rendere le città americane più sane e pulite. Si formò una coalizione tra urbanisti responsabili dello sviluppo e governo federale. Due leggi sulla casa vennero approvate per finanziare la demolizione degli isolati in rovina e fare spazio così ai nuovi centri urbani. I residenti dovevano essere trasferiti in periferia nei nuovi edifici di edilizia popolare noti come le torri nel parco. nel 1969 l'uomo era in grado di allontanarsi dalla confusione il problema della terra. Il viaggio verso la luna proprio come aveva previsto Herbert George Wells era il culmine del sogno di stabilire un nuovo inizio di civiltà. L'atterraggio sulla luna il 20 luglio 1969 confermò che la colonizzazione dello spazio poteva diventare una realtà. Ma ironicamente l'allunaggio ha rivolto lo sguardo della gente verso di sé e ha contribuito a un rivoluzionario ripensamento nei confronti della natura. La consapevolezza ambientale si era già sviluppata nei gruppi di controcultura antitecnologica. Volevano tornare alla natura allo sporco al disordine. Per gli hippie lo sporco includeva ogni genere di roba vecchia. Per loro roba vecchia non era una parola sporca. Trent'anni dopo riciclare non è più un'attività marginale è diventata una caratteristica delle classi mondiali. come molte tecnologie il riciclaggio è derivato dalla paura la paura di finire sotterrati nei propri rifiuti. Oggi da molta gente la tecnologia è vissuta come una minaccia una sporca presenza aliena all'orizzonte. Nel frattempo il mondo naturale che originariamente era aspro selvaggio e freddo il mondo da cui noi avevamo il bisogno di proteggerci ora è visto come fonte di stabilità di civiltà di pulizia. La tecnologia può apparire a molti di noi come un qualcosa di indipendente in realtà è solo un artefatto culturale così come è cambiata la nostra consapevolezza culturale è possibile cambiare il tipo di tecnologia che abbiamo. è possibile cambiare la nostra consapevolezza Grazie.